Sarà un Messina che viaggerà in auto, quello che si presenterà con ambizioni nel prossimo campionato di Lega Pro. La squadra dello stretto attualmente si trova nella quiete di Castel di Sangro in Abruzzo per preparare al meglio la nuova stagione. Un ritorno tra i professionisti che intanto è partito al volante del marchio italiano più conosciuto nel mondo. Infatti il main sponsor della società per questa nuova stagione sarà la Q Motors. Una sigla che riunisce le concessionarie Fiat Kundari, Siracusano, Gemelli e Priola presenti proprio nell'intera provincia. Un partner che sposa e segue il progetto insieme a noi ha tenuto a sottolineare il patron del Messina Pietro Lomonaco nel corso della conferenza stampa di presentazione del connubio ACR Messina QMotors.it avvenuta presso la sala conferenze della Q Motors a tre mestieri. Presenti oltre al massimo responsabile del suo delizio peloritano anche il presidente del club Isidoro Torrisi, il DG con Delegal Marketing Vincenzo Lomonaco, i rappresentanti della Q Motors Celestino Priola, Paolo Siracusano, Gino Kundari, il DG Giuseppe Romeo e il presidente provinciale del CONI Aldo Violato. Avere l'appoggio di un'azienda messinese ha continuato Pietro Lomonaco non è roba da poco. Ringrazio quindi tutti gli appartenenti alla Q Motors perché l'abbinamento con aziende del posto indica che la città è vicina alla squadra. Successivamente sono intervenuti sull'argomento anche Celestino Priola, presidente Q Motors e Paolo Siracusano che senza mezzi termini hanno sottolineato l'importanza di un progetto comune per conseguire insieme maggiori traguardi.